Ciao a tutti, un annuncio al volo prima di iniziare. Di tanto in tanto realizzerò dei video anche per il canale YouTube del progetto Dr. Fakenstein e il primo è già online. Vi lascio quindi il link in scheda e in descrizione, poi magari fatemi sapere anche lì se vi è piaciuto. Inoltre potete seguirmi anche su Telegram e Instagram, ma ora cominciamo. La storia di oggi ha la sua tappa più importante nel 22 dicembre del 1938 ed è sicuramente l'episodio legato alla zoologia che preferisco in assoluto, perché insegna che quando si ha tanta curiosità e passione è possibile scoprire qualcosa di incredibile anche se si comincia il viaggio disponendo di pochissimi mezzi. Prima di arrivare a quel fatidico 22 dicembre bisogna però tornare indietro al 24 agosto del 1931, quando Marjorie Lynn Doris Cartney Latimer, la grande protagonista di questa avventura, fu nominata a soli 24 anni curatrice dell'allora piccolo e poco conosciuto un museo di scienze naturali di East London, una città del Sudafrica che si affaccia sull'oceano indiano. Il museo non possedeva né riche collezioni né molti reperti da esporre al pubblico, ma Marjorie decise di rimboccarsi le maniche per sopperire a queste mancanze. Così ogni qualvolta l'era possibile si recava al molo per esaminare le reti dei pescatori, alla ricerca di qualche campione interessante. In questo modo fece la conoscenza del capitano Hendrik Gusen, comandante di un motopeschereccio che si offrì di aiutarla a mettere insieme una collezione di pesci. Tramite questo sodalizio i reperti custoditi nel museo iniziarono ad aumentare di numero e nel 1937 la collezione era diventata sufficientemente corposa da attirare l'attenzione degli studiosi. Tra questi vi era James Leonard Smith, professore di chimica presso l'Università di Rhodes, ma anche grande esperto di etiologia e profondissimo conoscitore dei pesci del Sudafrica. Ma eccoci giunti alla mattina del 22 dicembre 1938, quando alle 9.45 il manager della locale compagnia commerciale di pesca telefonò a Marjorie per informarla che il capitano Gusen stava tornando al porto con un enorme quantitativo di pesci, invitandola così a dare un'occhiata. Natale era alle porte con il suo carico di tanti preparativi e faccende da sbrigare e Marjorie, come scrisse molti anni dopo in una memoria di quegli eventi, avrebbe volentieri preferito dedicarsi a queste ultime, ma per non essere scortese nei confronti dell'amico decise che avrebbe fatto un veloce sopralluogo. Fu così che esaminando il pescato, i mezzasquali, razze, coralli e spugne marine, vide spuntare una strana pinna bluastra dalla forma inusuale. Non appena ebbe finito di liberare dal mucchio l'oggetto del suo interesse, davanti ai suoi occhi apparve il pesce più straordinario che avesse mai visto. Era lungo 140 centimetri e di un color blu malva pallido, con deboli macchie biancastre. Tutto il suo corpo emanava iridescenze che variavano dal colore dell'argento al verde al blu. Era interamente ricoperto da grandi squame osse che davano la parvenza di un'armatura, ma l'aspetto più strano era rappresentato dal numero delle pinne e dalla loro forma. Sul dorso ve ne erano due separate l'una dall'altra, mentre sul ventre ce ne erano cinque. La prima pinna dorsale cresceva direttamente sulla schiena, come in tutti gli altri pesci, mentre le sei restanti spuntavano al termine di brevi appendici muscolari sorrette da uno scheletro, che somigliavano quasi a piccole zampe. Inoltre il corpo dell'animale era avvolto da una sostanza oleosa, che in seguito si sarebbe scoperto essere prodotta da speciali cellule presenti sotto la superficie della pelle. Chiedendo informazioni all'equipaggio venne a sapere che era stato pescato presso la foce del fiume Calumna, ma nessun uomo della ciurma, anche quelli che pescavano nell'area da oltre 30 anni, si era mai imbattuto in un animale del genere. Da lì in poi la nostra eroina ebbe modo di accorgersi a sue spese che gestire la scoperta di questo strano pesce non sarebbe stato affatto semplice. Dopo aver convinto un recalcitrante tassista a far entrare nella sua vettura il cadavere oleoso, portò l'insolito reperto al museo, dove lo adagiò su di un tavolo. Iniziò così a consultare i manuali di etiologia di cui disponeva per scoprire di cosa si trattasse, ma senza riuscire a trovare nessuna informazione soddisfacente. Le balenò allora un'idea e prese dallo scaffale un volume dedicato all'evoluzione dei pesci. Con sua enorme sorpresa vi trovò il disegno di un animale molto simile a quello catturato dal capitano Gosen e apprese che apparteneva alla famiglia dei celacantidi, ma quando proseguì nella lettura non poteva credere ai propri occhi. Era infatti riportato che quei pesci, assieme ai loro parenti chiamati ripidisti, erano comparsi sulla Terra più di 350 milioni di anni fa, nel periodo conosciuto con il nome di Devoniano. In quel tempo tutto il mondo era unito in un unico immenso continente chiamato Pangea e i celacantidi si diffusero prima nelle acque interne e poi in mare aperto, insieme ai primi antenati degli squali. Ma mentre questi ultimi erano giunti sì nei nostri giorni, i primi si erano estinti in concomitanza con i dinosauri, circa 65 milioni di anni fa. Capendo di avere per le mani qualcosa di importante, l'obiettivo fondamentale era ora quello di conservare il reperto nel migliore dei modi. Ma scoprì ben presto che non sarebbe stato facile. Infatti quando allertò il responsabile del museo, che non doveva essere particolarmente esperto di pesci, quest'ultimo identificò l'esemplare con una cernia a macchie bianche, non cambiando opinione nemmeno quando gli fu posto sotto al naso il libro con le illustrazioni degli estinti celacantidi. Così, nell'indifferenza di chi avrebbe dovuto essere il primo a riconoscere la straordinaria scoperta, Mergeri fece di tutto per cercare un congelatore, visto che il museo non ne possedeva uno. Ma purtroppo tutti quelli che interpellò dall'obitorio dell'ospedale locale ai macelli si rifiutarono di aiutarla. Fu infine costretta a portare il pesce a casa propria, dove lo avvolse in fogli di giornale imbevuti di forma alleide, sperando che si conservasse il meglio possibile, in attesa di trovare altre soluzioni. Avendo provvisoriamente messo al sicuro il campione, decise di rivolgersi all'unico amico che avrebbe potuto svelare l'identità del pesce misterioso una volta per tutte, il professor James Smith. Telefonò all'università, ma gli dissero che non era reperibile, così scrisse una lettera con il disegno del pesce che aveva scoperto. Ma i giorni passavano inesorabili senza ricevere risposte e l'inestimabile reperto stava iniziando a marcire. Fu così costretta a prendere una decisione estrema, farlo imbalsamare. Ciò avrebbe significato perdere molte parti del pesce, soprattutto gli organi interni, ma avrebbe permesso di conservare almeno la pelle e parte dello scheletro. La lettera di risposta di Smith arrivò il 9 gennaio e la informava con grande entusiasmo che le sue intuizioni erano corrette e che si sarebbe personalmente recato al museo il 16 febbraio per esaminare personalmente il reperto. Questa scoperta sarà sulla bocca di tutti gli scienziati del mondo. Ho sempre pensato che un giorno uno di questi pesci primitivi sarebbe riapparso. Fu lo stesso Smith a redare la descrizione scientifica della formidabile scoperta e decise di onorare Mergery con uno tra i più grandi riconoscimenti cui un amante della zoologia possa ambire, quello di avere il proprio nome associato a quello di una specie. Il celacantide sopravvissuto entrò infatti nei libri di storia con il nome di Latimeria calumne. E in effetti se vogliamo essere pignoli il nome più corretto con il quale dovremmo chiamarlo secondo me non è celacanto ma è proprio Latimeria. La storia però non finisce qui perché se è vero che l'esistenza di quest'animale era stata documentata era anche vero che ciò che ne restava non era sufficiente per conoscerlo a fondo. Smith così decise che era necessario entrare in possesso di altri esemplari e allo scopo stampò e distribuì un enorme numero di volantini in tre lingue offrendo una ricompensa di 100 sterline a chiunque gli avesse fornito altri campioni. L'attesa durò ben 14 anni ma nel dicembre del 1952 a soli due giorni dall'anniversario della scoperta del primo esemplare un pescatore dell'isole Comore di nome Hamed Hussein catturò un pesce che non aveva mai visto prima e che il giorno seguente cercò di vendere al mercato dove alcune persone dimostrarno il volantino di Smith. Lo studioso non perse tempo a recarsi sul posto scoprendo che al contrario di quanto avvenuto nell'area di East London dove nessuno sembrava avere mai visto un pesce del genere i nativi delle Comore conoscevano invece la Latimeria con il nome di combessa e utilizzavano le sue scaglie il cui valore per i musei occidentali all'epoca era inestimabile come carta vetrata per pulire le camere d'aria forate delle biciclette. Durante gli anni successivi la maggior parte delle catture avvennero proprio nella stessa zona, testimoniando che la popolazione più numerosa era stanziata presso le Comore e che quello catturato presso la foce del Calumna doveva essere un esemplare errante. Negli anni successivi furono registrate catture anche lungo le coste del Kenya, Mozambico e Madagascar. Grazie ai nuovi campioni ottenuti, molte delle lacune e degli interrogativi rimasti sospesi all'epoca della prima descrizione morfologica di Smith poterno essere sciolti, ma altrettanto restava ancora da scoprire per quanto riguardava l'etologia della specie. Il primo passo in tal senso fu compiuto nel gennaio del 1987 dal biologo marino e documentarista Hans Frick, grazie a un piccolo sottomarino. Scoprì così che la Latimeria vive a circa 200 metri di profondità tra le fenditure delle rocce vulcaniche, è in grado di nuotare sia avanti che indietro e, contrariamente a quanto tutti all'epoca davano per scontato, anche se le utilizza per appoggiarsi, non cammina sul fondale utilizzando le sue pinne simili a slumpe. Nel frattempo, molto lontano dall'oceano indiano, il ritrovamento di misteriosi reperti aveva portato a ritenere che la distribuzione di questi animali potesse essere più vasta di quanto immaginato. Infatti, nel 1964, il chimico argentino Lodislao Reti ebbe da un sacerdote di Bilbao un medaglione d'argento lungo circa 10 centimetri, presente nella sua chiesa in qualità di ex voto. Raffigurava senza ombre di dubbio un celacanto e fu stimato risalire al XVII-XVIII secolo. All'epoca si ipotizzò che fosse stato realizzato basandosi su di un esemplare catturato lungo la costa atlantica o da un artigiano che aveva viaggiato all'Ecomore, ma fu anche azzardato che si trattasse in realtà di un oggetto mesoamericano. Purtroppo l'artefatto fu smarrito prima che chiunque potesse esaminarlo fisicamente e oggi ne possediamo soltanto una fotografia. Ma l'anno seguente un belga di nome Steinerd acquistò un oggetto simile in una galleria d'arte di Toledo. Soltanto molti anni dopo, nel 2000, entrò nelle mani del professor Cruz Valdovinos, esperto in arte in argento spagnola. La sua conclusione fu che il monile era privo dei motivi tipici dello stile barocco e che nell'arte tradizionale spagnola i pesci sono di norma realizzati senza accuratezza naturalistica, perché questo ne riduce l'interesse e quindi anche il prezzo di vendita. Inoltre i bordi affilati delle pinne, dei denti, squame e altre superfici erano riconducibili all'arte spagnola contemporanea. L'età dell'oggetto fu stimata a circa 50 anni, escludendo così che si potesse trattare di una rappresentazione della specie precedente alla sua scoperta scientifica. Ma soltanto tre anni prima, durante la più incredibile luna di miele della storia dell'ozoologia, una popolazione non africana di latimerie fu davvero scoperta. 18 settembre 1997, la naturalista Anaz Meta e il biologo Mark Erdman, novelli sposi in viaggio in Indonesia, osservarono un pesce inaspettato in un mercato di manado, sulla Wesi. Inaspettato perché somigliava in tutto e per tutto a una latimeria. A prima vista l'unica differenza con gli esemplari africani era infatti il colore tendente al marrone piuttosto che al blu, ma fu possibile soltanto scattare fotografie perché nel frattempo il pesce era già stato venduto alla cifra di ben 12 dollari e l'acquirente non volle in nessun modo separarsene. Anche se ero convinto che il celacanto non fosse stato segnalato al di fuori dell'oceano indiano occidentale, non avevo più seguito la letteratura in merito e sentivo che la nostra scoperta sembrava troppo fortuita per essere reale. Non riuscivo a credere che stessimo vedendo qualcosa di sconosciuto alla scienza appena scesi da un taxi in un vivace mercato di una città relativamente grande. Così, per risolvere l'enigma, Mark e Anath tornarono sul posto per intervistare i pescatori locali e con loro grande sorpresa scoprirono che, benché molto rara, la latimeria indonesiana era conosciuta con i nomi di Cernia Oleosa e quello di Rajalaut, che significa Signore del Mare. Chiesero così di essere contattati appena ne fosse stato pescato uno e il 30 luglio del 1998 la loro richiesta fu esaudita. La nuova specie fu battezzata la Timeria amenatoensis e dimostrava come il genere aveva una distribuzione molto più vasta di quanto precedentemente ritenuto accertato. Il fatto che questa popolazione di celacanto sia sfuggita alla comunità scientifica in un'area ben studiata dagli etiologi per oltre 100 anni è meraviglioso. È un promemoria umiliante ed emozionante di come l'uomo non ha affatto conquistato gli oceani e fornisce foraggio alla nostra immaginazione su altri mostri marini e bizzerrie degli abissi ancora da scoprire. Queste sono le parole con cui Erdman descrisse la sua scoperta ed è proprio di un mostro marino che vi parlerò nel prossimo video, svelando anche la sua più verosimile identità. Nel frattempo fatemi sapere se questo vi è piaciuto, ci vediamo alla prossima, fate i bravi e ciao!